buongiorno a tutti allora inizio intanto con presentarmi perché non credo che tutti mi conoscete parecchie di voi conoscono che io sanno che io lavoro alla congregazione e mi occupo degli istituti secolari e facendo tutto ciò che riguarda praticamente accompagnandoli dalla nascita alla morte perché purtroppo c'è anche la morte come la vita allora oggi intanto prendo il programma e scuserete le mie lagune perché la prima volta che chiaramente me di modero un convegno e quindi potete immaginare tutte le difficoltà che possono esserci in questo ruolo che anche se è solo di presentazione però insomma implica un'attenzione ai tempi un'attenzione e un ascolto attento a ogni aspetto allora innanzitutto cerchiamo di capire questa cosa faremo questa mattina e come vedete dal programma qui c'è scritto carisma e profezia le urgenze formative contributo a più voci ecco già qui c'è una diversità perché allora come avete saputo come avete penso intuito colto durante tutto l'arco dei lavori c'è stata un'equip dietro questo convegno che ha osservato e ascoltato e ha cercato di darci delle piste di cogliere diciamo gli elementi più importanti di cogliere appunto le urgenze formative per noi alla luce dell'oggi noi abbiamo visto la parte storica che ci ha portato alle origini poi abbiamo ascoltato le nostre storie abbiamo scorsato oggi le nostre storie di passione di profezia per il mondo ecco da tutto questo le persone che appunto ci hanno lavorato ci aiuteranno a capire quali possono essere veramente le urgenze formative per noi allora ma prima di questo do la parola a margherita palazzi che qui vedete non c'è il suo nome ma per un disguido e margherita è come sapete fa parte della presidenza del consiglio della conferenza mondiale degli istituti secolari brava marta e perché la sua presenza a parte il fatto della di portarci eh di saluti perché insomma è la presenza della stessa conferenza mondiale ma perché c'è stato come sapete già dall'assemblea del 2016 eh tutto un lavoro è un percorso formativo mh che allora hanno cercato di individuare dandoci delle piste oggi ci presenterà intanto vi presento lei ho dimenticato come una buona moderatrice no ho dimenticato di presentarla e lei è la responsabile del dell'istituto regno marie è un insegnante di filosofia e di pedagogia lavora nella diocesi per il dialogo interreligioso e nei servizi sociali del comune dico bene no aiuto soprattutto con l'aiuto alle ragazze madri ecco allora lei ci presenterà un pochino eh quello che è stato il percorso che ha portato a delineare quali sono le linee essenziali dei percorsi formativi dei nostri percorsi formativi e lascio a lei la parola i saluti della Iolanta Spilarevic li avete già ricevuti però lei mi ha mandato mi ha continuato a mandare dei messaggini perché ci tiene molto alla comunione e quindi voleva sapere come stava andando e ancora mi ha mandato altri saluti ecco quindi questo è bello non voglio dire bello così sdolcinato ma è comunque importante e noi abbiamo lavorato presidenza e consiglio dell'acmis e su tutti i contributi che erano stati nel congresso del 2016 erano usciti dal congresso erano preliminari al congresso eh c'erano vari documenti da leggere da studiare su cui riflettere su cui dialogare fra di noi e inizialmente c'è stato il tema dei tratti identitari degli istituti secolari quello di cui già avete sentito parlare da monsignor cabaio e anche noi ci siamo messi a a capire quali quali fossero le caratteristiche per poter essere denominati istituto secolare noi eravamo nove me siamo nove membri di nove istituti diversi di diversi continenti polonia brasile italia francia canada india e spagna e avevamo anche nove posizioni diverse e quindi trovare chiarezze comuni non era semplice ma abbiamo avuto diversi colloqui col cardinale prefetto con il segretario con daniela leggio leggio e con loro siamo riusciti a trovare delle chiarezze comuni cioè loro ci hanno aiutato a trovare delle modalità proprio per comprendere almeno un pochino di più i tratti comuni poi è uscito il documento la lettera ai vescovi che tutti conoscete ormai e ci siamo impegnati ci dobbiamo impegnare a diffondere il più possibile e però nello stesso tempo in cui riflettevamo sull'identità abbiamo cominciato anche il lavoro sulla formazione ci siamo divise in gruppi divisi in gruppi di studio il gruppo sulla formazione è guidato dalla da lilly fernandez che è dell'india e lei ha cominciato subito a lavorare con con altri istituti sia dell'asia che qualcuno dell'africa e recentemente è venuta con questo piccolo manuale di formazione per gli istituti secolari così l'ha chiamato sono 187 pagine in inglese ancora su cui noi abbiamo cominciato a studiare non l'abbiamo tradotto abbiamo tradotto come potevamo tra di noi perché è diviso anche in diverse parti con diverse relazioni di diversi esperti è un lavoro molto interessante intanto lei indica un po quali possono essere le linee di un laico come si può dire uno laico consacrato nella società di oggi e in questo manuale loro fanno un'analisi direi anche spietata della della società di oggi ma anche della crisi che c'è nella chiesa crisi di fede crisi di credibilità crisi di identità crisi di significato crisi di leadership e quindi l'urgenza del cambiamento della promozione della giustizia dei diritti umani del rispetto dei sessi dell'ecologia del dialogo interreligioso ne emerge una laicità consacrata che per sta per stare in questo tipo di società così difficile ha bisogno di formazione di moltissima formazione a livello umano culturale psicologico sessuale oltre al fatto di mettersi a studiare seriamente le scritture la teologia la liturgia la mariologia molte di queste pagine sono dedicate alla figura del formatore della formatrice che deve aiutare la candidata o il candidato al saper leggere la propria vita le proprie emozioni al coscientizzarsi intorno alla propria storia saper leggere le motivazioni di una chiamata sentirse ne responsabile un formatore che deve saper discernere gli elementi della vecchia pedagogia della formazione dagli elementi della nuova pedagogia della formazione un formatore che deve aver chiaro nella sua mente nel suo cuore il mistero dell'incarnazione attraverso tale mistero noi sperimentiamo la riconciliazione fra l'umano e il divino la natura e la grazia la contemplazione e l'azione e spesso invece abbiamo insegnato la dicotomia fra questi estremi e non la riconciliazione se possiamo chiamare gli estremi molte altre pagine del manuale che è quasi un centinaio sono dedicate allo sviluppo e all'integrazione psicosessuale si parla chiaramente di educazione sessuale nelle varie fasi della vita e di tutto quello che può succedere se vi sono state mancanze nelle fasi della crescita quindi si parla di problemi di masturbazione di pedofilia di pornografia di omosessualità di abusi sessuali eccetera questo manuale è anche ricco di bibliografia vi ho fatto una sintesi sintesissima da questa sin da questa da questo lavoro noi che peraltro adesso dobbiamo pensare cosa come utilizzarlo come metterlo nel sito in quali modi dobbiamo ancora capire cosa significa formazione online quindi dobbiamo ancora capire diverse cose però da questo lavoro molto interessante abbiamo deciso di pensare all'esatto contrario di questo manuale cioè a estrapolare da questo e anche dalle nostre esperienze dalle richieste delle dell'assemblea di estrapolarne gli elementi comuni e cominciare da alcune sottolineature ad alcuni passaggi di base ecco per questo poi abbiamo messo sul sito ed è già tradotto in sette lingue quel piccolo documento intitolato suggerimenti per la preparazione dei piani formativi negli istituti secolari ecco abbiamo messo suggerimenti perché poi abbiamo capito che ogni istituto certo potrà adattare al proprio specifico e ampliare o approfondire i vari elementi secondo il carisma la cultura i bisogni adesso ve lo leggo velocemente queste questi suggerimenti sono divisi in quattro parti riguardano gli aspetti della formazione gli aspetti generali gli elementi fondamentali gli ambiti fondamentali i modi quali aspetti di carattere generale questi sono l'alveo in cui si pone il tutto della formazione sono le diverse tappe della formazione l'approccio discernimento la formazione iniziale la formazione continua o permanente per ciascuna di queste fasi la loro durata che può essere variabile secondo le persone i contenuti per ciascuna tappa formativa e qualcuno ci ha voluto mettere anche gli indicatori di valutazione anche i contenuti possono cambiare in base alle persone poi importantissima la formazione dei formatori o comunque come i formatori vengono scelti non può trattarsi di una formazione per i formatori generica ma deve tener conto dei diversi ambiti della formazione dei membri è necessario tenere presente in modo preciso la diversità delle culture delle persone poi si parla di una razza per ciascun istituto come dice la vita consecrata consecrata al numero 68 poi ancora è necessario che i programmi di formazione vengano modificati in considerazione dei rapidi cambiamenti socio-culturali che modificano la vita e il pensiero delle persone in formazione e da ultimo ciascun membro è responsabile della propria formazione e comunque la persona è al centro seconda parte sono gli elementi fondamentali e noi diciamo la preghiera personale comunitaria l'accompagnamento individuale e della fraternità la vita nella comunità ecclesiale nell'istituto l'accompagnamento della persona attraverso un dialogo frequente e opportunamente programmato l'esercizio al discernimento come capacità di leggere l'azione dello spirito santo i segni dei tempi e come sviluppo di un processo decisionale la capacità di vivere la presenza nel mondo in solitudine con autonomia liberi da pregiudizi l'apertura la dimensione internazionale e la disponibilità all'accoglienza terza parte sono gli ambiti gli ambiti toccano la maturità umana la vita spirituale la formazione biblico teologica ecclesiologica pastorale la vita consacrata nel mondo la missione dei laici e delle laiche dei sacerdoti nel mondo il carisma dell'istituto parliamo anche di alcuni strumenti naturalmente poi ognuno vede trova strumenti propri ma la bibbia il catechismo il vaticano il concilio vaticano secondo vita consacrata gli ultimi documenti del papa poi i modi di formazione la quarta parte la formazione deve essere personalizzata adeguata a ciascuna persona alla sua storia alla sua cultura al suo cammino di fede alla sua età i modi di accompagnamento la formazione dovrebbe essere fatta nel luogo in cui vivono i membri in alcuni luoghi o parzialmente con strumenti digitali perché succede che ci sono delle dei candidati che vivono da soli o lontano da tutto e quindi pur rimanendo indiscutibile il contatto personale occorre raggiungerli in qualche modo poi si possono prevedere anche oltre la formazione personalizzata si possono prevedere tempi di formazione incontri per gruppi di candidati le modalità pratiche devono essere individuate tenendo sempre presente la situazione locale è importante utilizzare la opportunità di formazione offerta a livello locale per esempio le chiese locali organizzano corsi di teologia corsi biblici poi anche iniziative organizzate dalle conferenze nazionali degli istituti secolari e poi è auspicabile la collaborazione sempre fra istituti secolari anche per la formazione naturalmente quindi far circolare la collaborazione fra istituti maschili istituti femminili istituti sacerdotali e anche coinvolgere anche di più istituti secolari femminili e poi tutto questo dicevo che è sul sito e noi abbiamo ragionato un po' come però possiamo continuare questo argomento che anche questi suggerimenti potrebbero essere continuamente rivisti proprio perché dicevamo parliamo sempre dei cambiamenti rapidi ma dicevamo di voler fare qualcosa con gli addetti alla comunicazione che sono l'anna o sira e adesso non sappiamo chi viene al posto di padre Mario di creare una rete privata per formatori e formatrici di istituti oppure di aprire un forum di discussione sui temi formativi e poi volevamo aprire una rubrica denominata fac dove ci sono frequenti domande e risposte ecco abbiamo iniziato Teresa Doria ci ha aiutato ha già risposto a una serie di domande però ancora dobbiamo decidere come metterle sul sito e vedremo con con quelli che ci aiuteranno per il sito ecco a me sembra di avervi detto tutto ecco io ho detto tutto e mi auguro di di continuare a lavorare come stiamo facendo nonostante le difficoltà e vi ringrazio dell'ascolto allora grazie Margherita e adesso andiamo nel vivo del lavoro della sintesi del lavoro che è stato fatto prima di dare la parola perché il contributo sarà dato non da tutti ma soltanto da Barbara Pandoffi che è qui alla mia sinistra prima di dare la parola però volevo fare due parole di presentazione almeno su questa equip cioè dire semplicemente inviterei i partecipanti ad alzarsi e suor Barbara suor Elisabetta Flick Daniela Leggio Don Fabio Marini poi c'era Monsignor Martinelli che è andato via però gli facciamo un applauso lo stesso perché ci ha aiutato tantissimo e Barbara Pandolfi a cui adesso do la parola sì grazie buongiorno a tutti voi davvero questo lavoro l'abbiamo condiviso un po' dietro le quinte ma è stato un lavoro significativo che abbiamo fatto insieme quindi quello che io dirò è il frutto della riflessione un po' di tutti vorrei iniziare con una citazione di Luigino Bruni che credo sia stimolante per quanto riguarda la riflessione di questi giorni Luigino Bruni sottolinea che le realtà se vogliono durare oltre la vita del fondatore hanno un bisogno vitale di membri creativi e innovativi ma una volta che queste organizzazioni, queste comunità, queste esperienze crescono e si sviluppano chi le ha generate finisce per dar vita a strutture di governo che impediscono l'emergere di nuove creatività e così danno vita al loro declino è questa una legge fondamentale di movimento della storia la prima creatività che genera organizzazione e comunità a un certo punto inizia a produrre al suo interno gli anticorpi per proteggersi da nuove creatività e innovazioni che sarebbero essenziali invece per farle continuare a vivere una grave malattia autoimmune che colpisce molte organizzazioni e comunità la sua radice sta nella cattiva gestione della paura di perdere l'originalità e l'identità specifica del carisma del fondatore questa paura fa sì che si confonda il nucleo immutabile dell'ispirazione originaria con la forma organizzativa storica che esso ha assunto nelle fasi di fondazione e non si comprenda che la salvezza dell'ispirazione originaria consisterebbe invece nel cambiare le forme per restare fedeli alla sostanza del nucleo originario e così tutto finisce per diventare immutabile restare immutato e dunque sfiorire a 70 anni dall'approvazione degli istituti secolari dalla Provvida Mater che ha rappresentato come abbiamo sentito un'assoluta novità che ha aperto anche agli sviluppi futuri del Concilio Vaticano II nella relazione Chiesa-Mondo e nella visione di un laicato questa prospettiva di ulteriore cammino ci interpella tutti non possiamo pensare che tutto è raggiunto quello è un punto di partenza un punto anche di arrivo di un cammino compiuto da tanti dei nostri fondatori ma è un punto di partenza allora nell'esperienza che noi abbiamo vissuto nei diversi istituti a partire dalle intuizioni originarie dai vari riconoscimenti della Chiesa appunto la Provvida Mater il Primo Feliciter il Codice di Diritto Canonico il Magistero Pontificio inserirei anche la lettera ultima che ci è stata consegnata che ci aiuta a riflettere aiuta la Chiesa a riflettere sugli istituti secolari tutte queste tappe tutti questi cammini si sono declinati nel corso degli anni e hanno assunto connotazioni colori comuni come istituti secolari ma anche specifici a seconda del nostro carisma in questi giorni abbiamo sentito un po' di varietà di spiritualità di modalità di vivere ecco chiediamoci però oggi qual è la novità quale profezia siamo chiamati a portare nella Chiesa nel mondo e nella nostra comunità perché la nostra comunità diventerà nuova e novità per la Chiesa e per il mondo nel momento stesso in cui accoglie di camminare di continuare le proprie tappe di cammino e di sviluppo la fedeltà alle origini non può mai essere fossilità perché la fedeltà è questione più di futuro che di passato il carisma si genera e si rigenera continuamente come un organismo vivente perché il carisma è sempre in divenire altrimenti diventa un bel fossile ma non ha più vita per noi la specificità è data da una spiritualità dell'incarnazione che assume seriamente la storia come luogo teologico perciò la vita normalmente precede e supera la regola come è stato nella nascita degli istituti secolari gli istituti secolari non sono nati 70 anni fa hanno trovato una loro collocazione attraverso la provvida mater e tutti i passi successivi 70 anni fa ma erano nati prima perché la vita precede la regola l'incarnazione e la vita ci spingono sempre a osare intraprendendo quelle soluzioni anche solo probabili che sollecitava già Paolo VI assumendo i rischi di scelte coraggiose di scelte innovative di scelte che spesso anticipano i tempi come è stato per la storia dei nostri istituti che tentano di declinare il Vangelo e la storia di ascoltare la parola e la vita alla luce e dentro la vita quella degli istituti secolari spiritualità incarnata è una spiritualità che unifica l'esistenza dei membri degli istituti secolari spingendo a superare la scissione tra fede e vita l'incarnazione ci ricorda che la storia il corpo hanno un valore eterno Dio stesso è cambiato dal momento dell'incarnazione poiché la vita umanissima del figlio di Dio fatto carne è entrata per sempre nell'abbraccio del padre nel circolo d'amore che è la Trinità in questo momento il corpo e il corpo umano il corpo donato da Maria è nell'abbraccio del padre nell'unione dello spirito è qualcosa che ci dice il valore di questa realtà materiale come abbiamo sentito in questi giorni però dobbiamo chiederci cosa è cambiato in 70 anni cosa è successo nella storia nel mondo nella Chiesa in questi 70 anni lo dobbiamo fare per cogliere in prospettiva ciò che siamo chiamati a vivere e a portare avanti e a rinnovare la nostra vocazione è cambiata la visione di Chiesa da una Chiesa uniforme che trovava forza nell'istituzione siamo passati a una Chiesa mistero di comunione popolo di Dio segnata dalla misericordia e dalla tenerezza sono cadute le grandi ideologie e siamo transitati verso un pensiero debole e fluido spesso segnato dall'indifferenza che ci sollecita alla testimonianza e alla credibilità portare i valori cristiani in un mondo scristianizzato era l'idea della missione forse oggi l'idea della missione ci spinge ad accogliere e riconoscere i germi di bene che sono già presenti nella storia per accompagnarli se siamo partiti dalla priorità della dottrina siamo arrivati alla riscoperta della parola per vivere radicati nella parola avendo il Vangelo come regola assoluta della vita come abbiamo sottolineato in questi giorni da una liturgia centrata sul ritualismo sacrale alla partecipazione di tutti come culmine e fonte del cammino del popolo di Dio peccatore e perdonato alla laicità come militanza forte significativa spesso controcorrente a un interrogarci su cosa sia oggi laicità in un cammino di chiesa che ha visto passaggi diversi allora questi cambiamenti e molti altri sono quelli che in qualche modo ci sollecitano e ancora una volta ci dicono che non siamo fermi ma che andiamo avanti con l'invito che ci viene dalla lettera come ci ricordava Monsignor Carbaglio a essere noi stessi con la nostra specificità perché di questo ha bisogno il mondo ha bisogno la chiesa e forse potremo dare alla chiesa un contributo per un volto anche diverso in questi giorni abbiamo ascoltato vissuti di Vangelo storie di Vangelo lo abbiamo fatto nella tavola rotonda di ieri a partire da un'immagine del profeta Geremia che credo sia per noi e tutte e tutti attualissima la profezia nasce in un luogo ordinario questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore prendi e scendi nella bottega del vasaio la ti farò udire la mia parola io sono sceso nella bottega del vasaio ed ecco egli stava lavorando al tornio ora se si guastava il vaso che egli stava modellando come capita con la creta in mano al vasaio egli rifaceva con la stessa creta un altro vaso come ai suoi occhi pareva giusto allora mi fu rivolta la parola del Signore in un luogo ordinario nasce la profezia in un luogo di lavoro e di vita nasce la profezia guardando quello che avviene alcune parole della tavola rotonda di ieri che ridiciamo abbiamo rimesso insieme perché possano essere una riflessione ulteriore puntualizzata oltre al tanto che è emerso quindi non sono esaustive queste frasi però forse ci possono aiutare perché queste frasi partono dalla narrazione di fatti di Vangelo per raccontare l'amore per essere testimoni della misericordia di Dio da noi ricevuta e offerta gratuitamente a tutti per questo è necessario riconoscere che non basta vedere ma è necessario scrutare nella vita nell'oggi nella storia per interpretare i segni dei tempi bisogna andare a fondo ricercatori noi tutti del sigillo di Dio presente in ogni uomo e in ogni creatura così da non perdere la radice dell'umano cercando di vivere la mistica del quotidiano anzi del minuto dell'attimo riconoscendo che i poveri sono per noi maestri di vita stare dentro la storia nella politica nel sociale sapendo scrivere e cercare sempre l'essenziale facendo emergere l'importanza della responsabilità di ciascuno nei confronti del vivere del lavorare dell'essere presenti sul territorio per una paziente ricostruzione del tessuto sociale senza scoraggiarsi di fronte a una partecipazione che oggi lo sappiamo è fatta di piccoli piccolissimi numeri avere sempre di mire il bene comune riscoprendo continuamente il valore del discernimento del discernimento nelle scelte da assumere riconoscere che oggi i nuovi strumenti tecnologici il digitale il social la rete in questi strumenti è presente l'uomo e il mondo sono le piazze nelle quali essere presenti senza evidenziare solo l'aspetto negativo ma accogliendo tutte le potenzialità e le opportunità d'altra parte nel video bellissimo di stamani abbiamo visto il papa che usa questi mezzi certe che nessun luogo è lontano nessun luogo è profano e noi abbiamo da imparare anche dalla rete dalle sue modalità di comunicazione e scambio e nutrire il nostro desiderio di imparare si impara per tutta la vita riconoscere quale grazia è il nostro lavoro che ci porta a vivere la dimensione della fede nei gesti concreti della solidarietà e della misericordia che ci permette di accompagnare anche l'esperienza del dolore e della sofferenza un'esperienza inquietante per l'uomo l'esperienza della rabbia con una vicinanza reale e cordiale sentinelle sempre di una visione antropologica nella certezza che la nostra vocazione come ogni discepolato non è il modo per evitare il dramma dell'umano ma per attraversarlo con gli altri come gli altri ma con la luce della fede anche per la peculiare forma di vita che sono gli istituti secolari sacerdotali emerge il senso e il significato di essere dentro una società con la nostra e con la forza di una famiglia di appartenenza per essere sentinelle e testimoni della risurrezione superando la tentazione del potere di porsi al di sopra degli altri al di sopra di tutti con il coraggio di vivere senza schemi rigidi allo sbaraglio osando scelte coraggiose radicati nell'amore di Dio consapevoli che ogni età è chiamata a rienterpretare il progetto della propria spiritualità siamo invitati a misurarci con la vita per scendervi in profondità con la forza di saper stare anche nello smarrimento nella contraddizione e nel buio per fare questo è necessario sconfinare osare continuamente andare altrove superare gli schemi rigidi della legge penso alla legge di Paolo ognuno può metterci però molto di più mi sembra e ci sembra che da questa tavola rotonda emergano alcune linee che affidiamo all'ulteriore approfondimento di tutti e di tutte la prima il cambiamento in atto è elemento costitutivo della nostra vocazione è l'ingrediente della vita spirituale il cambiamento non è una disgrazia è una benedizione è l'ingrediente della nostra vita spirituale l'elemento costitutivo della nostra vocazione la nostra preghiera non può che scaturire dai fatti della vita dentro la vita da una parola che è sempre incarnata perché la parola si è fatta carne i consigli evangelici hanno una pertinenza umana non sono fuga dal mondo ma immersione profonda nell'umano non sono fuga di chi cerca la sua via di perfezione ma immersione profonda nell'umano che è comunque sempre segnato dall'obbedienza dalla castità e dalla povertà ogni esperienza umana ha questi tre connotati qualunque siano le scelte di vita prendere consapevolezza che noi abbiamo bisogno del mondo prima che il mondo abbia bisogno di noi non solo noi diamo ma riceviamo e se la nostra vocazione è la sintesi tra la consacrazione diciamo l'elemento teologico che viene da Dio ma non voglio separare dicendo questo è il mondo noi abbiamo bisogno del mondo così come abbiamo bisogno di Dio allora queste sono elementi che credo possano essere emersi dai racconti di vita da quei fatti di Vangelo che ieri ci siamo narrati e che ci spingono a linee formative nuove o rinnovate o ad approfondire una modalità formativa è venuta fuori dalla tavola rotonda di ieri che è la narrazione la vita è da narrare perché noi crediamo che la vita sia luogo teologico proprio per questo la vita deve avere la sua centralità nella nostra spiritualità e nella nostra formazione raccontare narrare non significa subito capire o interpretare con facilità ma semplicemente tante volte rievocare ricordare ricordare e custodire non è cercare risposte facili ma sostare nelle domande far emergere anche le contraddizioni lì dove ci sono i pensieri diversi la complessità narrare è andare in profondità per cogliere nella vita e nella storia la presenza di Dio che permette di reggere la storia di discernere di elaborare di essere critici di convertirci quindi di cambiare rotta la nostra formazione non può che avvenire dentro la storia che ci spinge oltre in quella fedeltà al Signore che d'altra parte la Chiesa delle Origini ha sperimentato quando si è aperta ai pagani è andata oltre perché lo spirito nella storia nell'esperienza andava oltre avevano già ricevuto lo spirito santo potevamo non battezzarli la parola illumina la vita e lo spirito precede i nostri passi svela il senso ci rende lievito di sapienza permettete che dica una parola su questa parola sapienza che è sapore che è saggezza ma che è anche capire in profondità le cose è la sapienza dell'Apocalisse di chi sa aprire il libro della storia e sa interpretare quell'oscura vicenda che i cristiani vivono alla fine degli anni 90-100 che li vede martiri che non vede il ritorno di Cristo quel libro sigillato si apre ed è l'agnello immolato è la parola che apre quel libro della storia allora ci permette di essere sapienti al di là dei fatti di cronaca di andare dentro cittadini di Galilea cittadini della Galilea siamo chiamati ad essere cioè a tornare o a rimanere sempre in Galilea perché lì si incontra secondo il racconto di Marco il risorto ma d'altra parte anche Luca lo fa incontrare sulla via di Emmaus e la via di Emmaus è una via di fuga è un'altra Galilea Galilea terra di confine terra impura mescolata terra di lavoro di fatica eppure terra dell'incarnazione terra di vocazione terra di Pasqua da questa Galilea nasce la passione anche la passione ha due significati almeno per noi la passione è la passione dell'amore è la passione anche travolgente e è la passione di Cristo allora passione per la vita feriale la vita del mondo la vita quotidiana la vita di ogni giorno la vita polverosa di ogni giorno passione per il dialogo con le molte culture del nostro tempo non c'è più una cultura sola ci sono molte culture diverse passione per la Chiesa e per il Vangelo ma come tenere viva la passione quale formazione per noi cittadini di Galilea prima di tutto essere e divenire sempre più consapevoli che come discepoli non si è una volta per tutte discepoli non lo si è in modo definitivo lo si diventa nel cammino feriale ed esigente della sequela per la forza dell'amore anzi il senso della nostra vita e della nostra vocazione ci viene svelato solo progressivamente non lo abbiamo tutto all'inizio ci viene svelato progressivamente come a Maria è la vita che forma forma dal di dentro il camminante colui che cammina non ha un cammino ma il cammino lo fa andando dice un proverbio latinoamericano è la vita che ci forma allora dobbiamo recuperare la capacità critica anche nelle nostre comunità diciamo la verità le domande sono la cosa che è stata più carente in questi giorni perché nelle nostre comunità abbiamo paura di dibattere di pensieri diversi o siamo capaci di affrontare la capacità di giudizio la capacità di discutere la capacità critica di confrontarci non è negare la pace è costruire la pace perché mai Dio è uniformità Dio è uno e trino è padre figlio e spirito non è monolitico la nostra formazione avviene solo all'interno di un mondo del mondo scusate della storia questa storia che ci forma è una storia plurale è un mondo plurale non possiamo ridurlo a uno una cosa è la sintesi di vita e una cosa è la riduzione la vita è vocazione la vita è provocazione la vita ti forma la vita stessa perché questo avvenga forse nelle nostre comunità dobbiamo riscoprire l'accompagnamento come una modalità seria profonda di diventare comunità di sostegno e di formazione come possiamo altrimenti essere questo sostegno e questa formazione se non accompagnandoci ma cos'è l'accompagnamento dice l'Evangelii Gaudium al numero 169 l'annuncio evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite non è da trasmettere sempre con determinate formule stabilite o con parole precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile questo non sarebbe accompagnamento sarebbe consegna di una formula ma l'arte dell'accompagnamento cioè dell'essere accanto e di aiutarci vicendevolmente a interpretare la vita e la storia e le esigenze di cammino e di formazione che dalla vita e dalla storia emergono perché da soli non sempre ce la facciamo da soli non sempre si fa chiesa dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo all'ora il nostro accompagnarci il nostro formarci nella comunità attraverso una modalità di accompagnamento è esperienza di chiesa è esperienza di vita vero comune insieme vorrei aggiungere una domanda avendo ascoltato quanto la CMIS ci ha detto e mi chiedo come ci lasciamo interpellare noi istituti secolari presenti in Italia e nati probabilmente in Italia dagli istituti secolari o da una parte dei nostri istituti che oggi si sono allargati in altri paesi oppure come accogliamo membri provenienti da altri paesi oggi credo che in alcune delle nostre comunità ci siano persone che vengono da altri paesi che sono diventate cittadini italiani che lavorano qua ci hanno chiesto di entrare nelle nostre comunità come ci lasciamo interpellare in un mondo globale come ci lasciamo interpellare forse è più facile il giudizio cercare di farli diventare come noi invece di cogliere quei germi di freschezza di novità anche di sconfinamento che i membri di altri di altri paesi o presenti in Italia ma provenienti da altre culture ci portano come ci lasciamo interpellare non sarà forse anche questo un segno attraverso il quale il Signore ci invita ad accogliere questo mondo che diventa un mondo unico globale e quindi noi potremo anche in questo per l'amore che ci lega per la fraternità che ci lega diventare veramente laboratorio esperienziale per la Chiesa e per il mondo domanda aperta così come lascio aperta un'altra domanda abbiamo bisogno di una teologia degli istituti secolari forse sì forse ci ritroviamo in tanti documenti ma forse sentiamo anche altro forse abbiamo bisogno di una teologia degli istituti secolari e questa teologia ieri ha trovato a me sembra oltre a tutto quello che ho detto fino ad ora una linea che credo importante l'ho già accennata prima ma la riprendo la capacità di cogliere la profondità dell'umano la profondità del mondo perché non possiamo staccare l'umano dal mondo la nostra casa comune stamattina ci veniva detto rischiamo una escatologia che non entra nel tempo ma che proietta solo nel futuro mentre l'escatologia è già qui e ora perché ora il regno di Dio è presente per certi versi noi viviamo già il tempo ultimo la vita consacrata non anticipa il tempo ultimo perché il tempo ultimo è già qui non è nella sua pienezza ma è già qui quindi un'escatologia forse capace di credere e custodire il significato profondo della carne del corpo del mondo della vita umana chiamati la carne il corpo il mondo la vita nella sua interezza a entrare così come il disegno del padre li ha pensati in Dio chiamati a entrare anche con le loro ferite con i segni della loro fragilità della carne del corpo del mondo della vita in Dio stesso così come vi dicevo il corpo di Gesù risorto e asceso al cielo è entrato nell'abbraccio della Trinità con le sue ferite non sono scomparse anche quelle ferite hanno valore perché è la vita umana nella vita umana è sempre ferita e quindi questo ci invita a cogliere la fragilità la vulnerabilità come una risorsa fondamentale per noi vorrei terminare con due frasi quelle della bellezza e della gioia quando siamo coscienti della bellezza della secolarità consacrata questa bellezza che c'è già nei nostri istituti una bellezza naturale e pacata legata ai volti alle storie di ciascuno e di ciascuna alle cose quotidiane e al senso più profondo del nostro appartenere a Dio noi siamo capaci di cogliere che la bellezza è relazionale ma chiediamoci quanto siamo capaci di vivere realmente questa bellezza che dà qualità alla nostra vita unità al nostro essere ad agire come fosse il nostro comune linguaggio educare al bello non significa ancora una volta estranearsi dalla realtà né vivere di utopie impossibili ma vivere ciò che siamo chiamati a vivere e l'ultima parola è la gioia la gioia e la bellezza stanno insieme la gioia è ciò che possiamo e siamo chiamati a testimoniare la gioia del Vangelo la gioia di una vita radicata nel Vangelo ma la domanda che vi lascio che lascio a me prima che a voi è ma noi siamo veramente felici grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie.